Polifemo, una trasmissione storica che attraverso il dibattito mette in contatto il cittadino con coloro i quali ci amministrano, con coloro i quali detengono il potere. Una trasmissione che non fa sconti a nessuno, che vuole andare alla ricerca della verità, con un giornalismo tagliente, senza veli, senza mezzi termini, senza mezze misure. Polifemo su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, ogni venerdì alle ore 21 ed in replica il mercoledì alle 23.30. Ma c'è poi lo sportello del cittadino, un vero ufficio reclami che accoglie suggerimenti, proposte e segnalazioni e denunce appunto del cittadino. Ogni giorno, sempre su Delta TV, alle ore 13, alle ore 17.30 e alle ore 20. Con noi l'informazione è libera, sempre dalla parte del cittadino.